Dopo il successo senza precedenti della serie tv è in arrivo a teatro il musical di Marefuori. Dopo le selezioni a Roma questa mattina casting per aspiranti attori, ballerini e cantanti al Teatro Agusteo di Napoli. In tantissimi ragazzi fino a 35 anni che hanno preso parte alle selezioni sotto la supervisione del regista Alessandro Siani e del protagonista del musical Andrea Sannino. Mi presto solo a dare il mio contributo grazie all'invito del regista, grande amico mio Alessandro Siani che mi ha chiesto di interpretare questo ruolo che oggi come oggi soprattutto per i fatti di cronaca che hanno attanaiato la nostra città negli ultimi giorni è quello dell'educatore. Quindi la parola educazione è qualcosa a cui tengo particolarmente. Sono genitore, è la prima volta che interpreto un ragazzo dove faccio quello più grande che può, cerca di insegnare qualcosa ai ragazzi dai 15, 18, 19 anni che sono sempre a un bivio nella nostra città. Quindi è uno spettacolo che mi onora sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Ma cosa significa per un giovane partecipare a Marefuori? Lo abbiamo chiesto ai partecipanti questa mattina al casting. Sono un poliziotto penitenziario quindi è bello anche vedere qual è la differenza reale effettivamente tra un film e quella che è la realtà. Sarà un'ottima occasione per fare altro oltre alla danza che alla mia disciplina. Quindi dedicarsi anche al canto, alla recitazione che comunque sono campi che mi hanno sempre affascinato. Ho una formazione, tanta formazione, ho studiato tanti anni, per me il teatro è vita, per me lo spettacolo, l'arte e la danza. È la mia linfa vitale quindi poter far parte del musical di Marefuori sarebbe una grandissima occasione. Ci sono tanti esempi, tante realtà che ci circondano e bisogna conoscerle tutte. Noi dalle cose negative dobbiamo sempre tararle il buono. Generano veramente emulazione secondo te? Allora generano emulazione lì dove non c'è una famiglia che sappia spiegare che quella è finzione e non è realtà. Nel momento in cui alle spalle c'è una struttura salda sia familiare che magari anche proprio di conoscenza quindi una situazione cognitiva affidabile non c'è nessun rischio di emulazione. Io penso che l'ignoranza porta ad emulazioni negative. Non le fiction, non i musical e non queste perché questo dà un messaggio sia positivo e anche negativo allo stesso modo.